Allora, scusate, come dicevo abbiamo già visto in una slide che entra in gioco ogni tanto la privacy, nel senso che nella parte sull'open by default può sovrapporsi questo secondo livello, quello della data protection, e da qua in poi arriviamo appunto a parlare dell'altro lato della medaglia, l'altra faccia della medaglia della nostra lezione sulla data governance, quella che riguarda appunto l'aspetto privacy. La domanda è questa, nell'introduzione c'erano i puntini e adesso ci facciamo la domanda, cioè quando entra in gioco la privacy? La risposta sembra banale, mi direte, grazie, no? Certo, quando ci sono anche dati personali, che era esattamente quello che diceva la norma, l'articolo 52 del CAD, del codice dell'amministrazione digitale, è ok, allora dobbiamo iniziare a interrogarci su cosa si intenda davvero per dato personale, cioè tutti gli esempi che vi ho fatto finora se si avete fatto caso non erano di dati personali, no? Io vi ho fatto gli esempi, non so, la banca dati dei fiumi, di tutti i fiumi d'Italia o d'Europa, oppure il numero di decessi per covid, soprattutto quando questo numero non riguarda appunto, cioè non viene ricondotto delle persone, quindi questo è un esempio interessante, cioè finché lo do in forma aggregata, ieri ci sono stati 534 morti, non è un dato personale. Gli orari degli autobus, altro esempio di banca dati che non riguarda assolutamente dati personali, però tutte le volte che la banca dati contiene dati personali, che vedremo possono essere anche indirettamente personali, allora mi si devono accendere tutta una serie di lampadine e di warning che mi fanno interrogare sull'applicazione o meno delle norme sulla privacy. che vedete, c'è questo acronimo che vedete nella slide GDPR, è il regolamento generale sulla privacy europeo, cioè in Europa nel 2016 si è scelto di non fare una direttiva europea sulla privacy, ma di fare un regolamento, un regolamento vuol dire che invece è una norma direttamente applicabile, già completa diciamo, direttamente applicabile in tutti gli stati aderenti all'Unione Europea, e quindi dal 2016 in poi abbiamo un'unica normativa per tutti gli stati europei in materia di privacy, che non è una cosa da poco, perché vuol dire avere almeno a livello europeo, almeno a livello di continente, dei principi che sono uguali per tutti, che sono standard, e non è appunto un passaggio da poco, cioè nell'ambito ad esempio del copyright, tutto quello che vi ho fatto vedere finora, non abbiamo un regolamento europeo, abbiamo delle direttive e poi ogni stato sceglie come applicare queste direttive nell'ambito della sua autonomia. Il GDPR invece è un regolamento che viene poi tradotto in tutte le lingue dell'Unione ed è uguale, è standard per tutti gli stati, e perché cambia non da poco le cose? Perché in un mondo come quello di oggi, in cui tutto sostanzialmente passa attraverso internet, avere una norma che almeno è uguale per tutti gli stati europei ci dà un vantaggio, soprattutto anche a noi avvocati, io spesso ho dei clienti che mi chiedono consulenza in materia di privacy e quasi sempre si parla di gente che fa siti web oppure realizza delle app e le mette in vendita sugli store, in tutti quei casi devi sempre chiederti qual è la legge applicabile, non è sempre automatico perché il cliente è italiano ma magari realizza un sito web per un'utenza che è, che ne so, francese, spagnola, austriaca, e quindi prima del GDPR dovevi ogni volta interrogarti su quale fosse la normativa privacy prevalente ed applicare. Adesso abbiamo il GDPR e quindi sappiamo che in Austria, in Francia, in Spagna, in Germania o in Inghilterra, purtroppo l'Ighilterra non più tra poco, c'è un'unica normativa che è poi, come vi ho detto, approvata nel 2016, diventato operativo e vigente a tutti gli effetti nel maggio del 2018, quindi ormai sono un paio d'anni che abbiamo questa normativa. In questa norma troviamo la definizione di dato personale, così iniziamo a capire quando scatta la privacy, cioè quando scatta la normativa sulla privacy la risposta la troviamo in queste sei righe di definizione. Allora, dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, quindi primo concetto di base, primo discrimine importante, c'è privacy solo quando c'è una persona fisica, quando ci sono degli esseri umani. La società SRL, che non so, ristorazione SRL, non ha privacy, cioè i dati relativi alla partita IVA di una SRL, i dati relativi al bilancio o alle agevolazioni fiscali che ha ottenuto una SRL, non sono soggetti a privacy. Quindi non c'è privacy su dei dati che appartengono a delle persone giuridiche, ma a persone fisiche. Attenzione, non mi cadete nell'equivoco che riguardi le partite IVA, perché anche un soggetto, anche una persona fisica può avere una partita IVA. Cioè io sono un avvocato, ho una partita IVA, ma rimango una persona fisica. Quindi comunque il mio indirizzo email, anche se corrisponde ad un avvocato, ad uno soggetto che ha una partita IVA, è comunque coperto da privacy. Ok? È comunque un dato personale perché è riconducibile a una persona fisica, ad un essere umano e non a un'azienda. Quindi mi raccomando, già questo è un importante discrimine. Capire se nei dati che sto trattando ci sono o meno dati che sono, vedete, riconducibili ad una persona fisica. Identificato è identificabile. Quello identificabile crea una serie di problemi non da poco insieme all'altra parolina magica che vedremo dopo, cioè indirettamente. Infatti indirettamente l'ho messo in rosso. Perché? Perché indirettamente apre tutta una serie di thriller, di dubbi, di questioni interpretative su quando una persona è anche indirettamente identificabile. Vedete, dopo il punto virgola si dice che si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad esempio ad un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Esempio, diffondo un curriculum di un mio dipendente che ha una foto, alcuni mettono sulla prima pagina del curriculum una loro foto, così per farsi vedere, per far vedere che persone sono. Allora io diffondo questo curriculum e oscuro tutti i dati personali, l'indirizzo, il numero di cellulare, l'indirizzo e-mail, ma lasciando la fotografia in realtà ho già comunicato tutta una serie di dati personali di questa persona che sono relativi ad esempio alla sua etnia, nel senso che dalla foto si capisce se questo ha una origine asiatica o caucasica o africana, oppure se ha una cicatrice sul volto, se ha dei segni particolari che possono essere riconducibili ad una sua malattia o una sua menomazione, una sua convalescenza recente, un'operazione che ha subito. Ok, quindi come vedete anche quando mi sembra di aver tolto i riferimenti alla persona, sto comunque già comunicando una serie di dati che rientrano in questa definizione. Anche il numero identificativo, vedete, quando si dice un identificativo online, un identificativo online è ad esempio l'indirizzo IP. Un indirizzo IP è il classico caso in cui il dato è un dato numerico che corrisponde ad una macchina, è una serie di quattro numeri che corrispondono ad una macchina collegata alla rete, ma nel momento in cui quella macchina può essere, cioè possiamo riuscire a risalire chi c'era dietro quella macchina, chi era il soggetto che si era loggato, allora automaticamente quell'indirizzo IP diventa anche dato personale. E quindi, come vedete, questo indirettamente crea tutta una serie di thriller, cioè anche, guardate il caso dell'ubicazione, no? Io ho seguito un cliente che si occupava di, vabbè, io seguo alcuni progetti importanti relativi ai dati geografici e ai dati meteorologici. Alcuni dati meteorologici venivano da questo mio cliente raccolti attraverso delle centraline, cioè sono degli aggeggi super tecnologici che tu puoi mettere sul tetto, sul balcone di casa tua, e loro raccolgono una serie di dati relativi atmosferici, non so quanto l'umidità, la pioggia, la temperatura, la luce solare, via dicendo, no? E quelli poi vengono raccolti in una banca dati e rielaborati per dare delle modellazioni meteorologiche. E voi direte, beh, ma che dato personale c'è? Cioè il fatto che oggi ci siano 12 gradi o 18, che ci sia un tasso di umidità così... Eh, infatti quelli non sono personali per nulla. Il problema qual è? Che queste centraline hanno un dispositivo GPS che comunica con una precisione al centimetro quasi, comunque a pochi metri, la posizione della centralina, perché devi sapere di preciso questa centralina dove è ubicata. Questa ubicazione purtroppo in molti casi era in abitazioni private. E quindi, incrociando alcuni dati, si riusciva a risalire sostanzialmente a chi era la persona, perché uno aveva magari una villa, una casa, non un appartamento in un grande condominio, ma una villa privata e aveva sul tetto o sul balcone o in cortile questa centralina e indicando il suo posizionamento GPS si stava individuando anche l'abitazione privata del tizio. Quindi, come vedete, anche quando non sembra che ci siano dati personali, possono essere personali indirettamente. E quindi in quel caso devo aggiungere delle cautele maggiori per cercare di scollegare il dato dall'ubicazione o renderlo non riconducibile alla persona. Ce ne sono tanti altri, adesso potremmo stare qua a fare una lezione di due ore su questo concetto dell'indirettamente. Un dibattito che era emerso, ad esempio, sulle famiglie che avevano ottenuto un'agevolazione da parte del comune per non pagare la mensa dei bambini. E lì sono situazioni molto delicate, perché da un lato hai l'interesse degli altri cittadini a sapere se questi hanno fatto i furbi o meno, se sono davvero delle persone in una situazione di bisogno o se sono dei furbi. Dall'altro hai la tutela dell'identità del bambino, che è un soggetto che è incolpevole, anche se il papà ha fatto il furbo e ha voluto ottenere un'agevolazione che non doveva ottenere. Quindi il comune, che è colui che poi mette fuori il dato, deve mettersi nei panni, cioè deve cercare di trovare il corretto equilibrio per non violare la privacy del bambino, nello stesso tempo garantire la trasparenza del dato pubblico che deve essere esposto. Quindi situazioni molto molto delicate. E voi, ripeto, per quello che interessa a voi, nell'economia di questa lezione, non dovete arrivare a questo livello di dettaglio, però quando farete questo tipo di attività, soprattutto se fate attività di marketing, perché il marketing pone una serie di cautele maggiori, perché state utilizzando i dati delle persone per vendergli della roba, ok? Quindi c'è profilazione, c'è tutta una serie di cautele che il GDPR richiede, e lì vi dovrete affidare a qualcuno che ne sa, che ne sa di privacy, che conosce questi aspetti. Se lavorate in grandi aziende c'è anche un, ci sono degli uffici appositi, c'è un DPO che è appunto un soggetto anche esterno che controlla e presidia l'aspetto della privacy. Diciamo, nell'economia della nostra lezione è sufficiente avere chiara questa definizione. Anche la definizione di trattamento di dato personale è estremamente ampia. No? Cioè, se adesso vediamo... Ah, scusate, qua mi è partito un titolo sbagliato. Sì, scusate, mi è partito un titolo sbagliato, era questa la slide. Cioè, prima volevo farvi riflettere sul fatto del... quanto è forviante il concetto di titolare del dato. Cioè, molte volte, anche i miei clienti, viene anche gente che fa questa attività ad un livello molto professionale, molto alto, si interrogano su chi sia il titolare del dato. Ma chi è qua il titolare del dato? Solo che la parola titolare del dato è molto forviante. Perché? Perché innanzitutto mette insieme dei piani che è meglio tenere separati, ma soprattutto non viene utilizzata da nessuna norma giuridica. Lo spiego in questa slide. Cioè, l'espressione titolare del dato non trova riscontro in nessuna norma giuridica vigente. Cioè, non c'è una norma che appare nella norma sia nella legge sul GDPR, nelle nostre leggi o nel codice sulla privacy italiano. Non esiste e nemmeno nella parte sulla proprietà intellettuale che abbiamo visto finora. Quindi, quando parliamo di titolarità del dato, dobbiamo distinguere se stiamo ragionando in ottica privacy o se stiamo ragionando in ottica proprietà intellettuale. Cioè, in quale dei due piani ci stiamo muovendo. Prima, ragionamento da fare. Perché? Perché una volta che capiamo in quale piano siamo, capiamo di che tipo di titolarità stiamo parlando. Questo è un concetto davvero centrale, mi raccomando. Cioè, la normativa privacy utilizza non la parola, non il titolo, cioè il concetto di titolare del dato, ma di titolare del trattamento, che in inglese, nella versione inglese del GDPR, è data controller, cioè colui che ha il controllo dei dati, che secondo me è più corretto, è più chiaro. Oppure parla di interessato, data subject, che è la famosa persona, l'interessato è la persona fisica, cioè l'omino, l'essere umano, a cui è poi riconducibile quel dato. Ed è colui a cui poi vanno garantiti una serie di diritti, una serie di cautele, che è colui che può chiedere la cancellazione e la rettifica dei dati, no? Quindi, vedete, sono già due concetti diversi. Uno è il titolare del trattamento, che è esattamente l'altro lato, l'altro fronte, cioè colui che raccoglie i dati degli interessati e li gestisce e li controlla. Se siamo invece sul piano della proprietà intellettuale, del diritto della proprietà intellettuale, in realtà non si parla mai di titolare del dato, al massimo di titolare della banca dati, ancora più propriamente di titolare dei diritti sulla banca dati. Se mi avete seguito nella parte iniziale della lezione, il titolare dei diritti è colui che ha fatto il rilevante investimento per realizzare la banca dati e quindi diventa costitutore della banca dati e possiamo dire titolare della banca dati, più genericamente. Però vedete che non c'è mai titolare del dato, perché sarebbe improprio in entrambi i mondi. mondo privacy, lato privacy è improprio perché titolare è il titolare del trattamento, lato proprietà intellettuale è titolare dei diritti sulla banca, cioè titolare dell'acquisita proprietà intellettuale, non del dato in sé. Ok? Cioè, Tizio realizza una banca dati di tutti gli indirizzi email per fare marketing, quindi deve farsi dare dagli interessati, deve farsi dare il consenso all'utilizzo dell'indirizzo email a scopo di marketing. Quindi lui non è titolare del dato, titolare del dato è, cioè gli interessati sono coloro che hanno l'indirizzo email e che ti autorizzano a utilizzarlo per scopi di marketing. Ma lui non è titolare del dato, è il titolare dei diritti sulla banca dati, cioè il malloppone di tutti questi indirizzi email che vengono organizzati all'interno della banca dati. Quindi vedete che il titolare del dato è sempre e solo forviante. Il titolare del trattamento è questa roba qua, cioè è la definizione fornita dal GDPR. E come vedete io ho messo tra parentesi data controller perché in effetti utilizzando il termine inglese si cade meno nell'equivoco sostanzialmente. È la persona fisica o giuridica, quindi il titolare del trattamento può essere sia fisica che giuridica, al contrario dell'interessato che invece è sempre una persona fisica, oppure l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Quindi il titolare del trattamento non è necessariamente colui che poi maneggia i dati, ma è colui che comunque ha il controllo, cioè decide, prende le decisioni sul trattamento dei dati. E infatti, come ho messo in nota qua sotto, è diverso dal concetto di responsabile del trattamento, che in inglese anche lì si capisce meglio, data processor, che invece appunto è il soggetto che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento. Quindi l'azienda, che ne so, la Nestlé, la Microsoft, raccoglie una serie di dati, ma poi non è lei che davvero fa l'attività di marketing, perché poi la delega ad una società esterna che fa questa attività. Quindi titolare del trattamento rimane l'azienda, la titolare che ha deciso di raccogliere questi dati, di farle un'attività, di usarle per fare un'attività di marketing, ma poi il data processor, cioè coloro che davvero maneggiano questi dati, è un soggetto separato. Quindi ecco la differenza tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento. Come vedete, anche qua, non è mai titolare del dato. È titolare del trattamento o responsabile del trattamento. Ma che cos'è trattamento? Scusate, era la slide famosa che era saltata. Niente, trattamento non ce l'ho nella slide, ve la vado a prendere sul GDPR, perché è importante. Il GDPR testo, vediamo, eccolo qua, quello del garante. Arricchito con i riferimenti. Che giro lungo mi fai fare? Eccolo qua. Così intanto lo vedete, questo vedete, regolamento UE 2016-679 del Parlamento Europeo. Lo trovate sul sito del garante. Questo contiene una... È veramente molto lungo, perché sono tutti considerando, cioè tutte le rilevazioni fatte dal legislatore europeo per arrivare a quelle norme. E poi iniziano le norme, che sono qua. Le definizioni che vi ho proiettato, che vi ho messo nelle slide, sono contenute nell'articolo 4, che è un articolo fondamentale, cioè è un articolo che fornendo definizioni ci fa, diciamo, da punto di partenza. Vedete, la definizione di dato personale è questa che vi ho già messo nella slide. Quella di trattamento, la leggiamo insieme qua, zoom ancora un bel po', così la vediamo tutta. No, ho zoomato troppo. Eccola qua. Trattamento è qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione. Cioè, vedete, praticamente tutto ciò che voi fate con i dati personali rientra nel concetto di trattamento. Ok? Cioè, non è che ci sia molto da da chiedersi, da interrogarsi se o meno quello che sto facendo con i dati personali rientra nel concetto di trattamento. Perché, come vedete, è talmente ampia la definizione che più o meno quando io ho a che fare con dati personali quasi sempre rientro nel caso del trattamento del dato personale. Al massimo mi posso interrogare se io sia un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento. Quindi, nell'attività che andrete a fare voi di marketing potreste essere uno di queste due figure o il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento. Interessante per voi che fate marketing è la definizione di profilazione. Perché? Perché l'attività di profilazione che è quello che viene fatta da coloro che gestiscono i cosiddetti big data è proprio quello di raccogliere tutta una serie di dati sul comportamento degli utenti per poi riuscire in qualche modo a clusterizzarli a prevedere i loro comportamenti anche futuri. E quella è un'attività che crea una serie di responsabilità maggiore per colui che tratta il dato e che quindi richiede una serie di cautele ripeto non possiamo farlo in questa in questa sede troppo non abbiamo il tempo necessario però ecco nell'attività di digital marketing ci rientra in pieno e dovete capire che cos'è vedete qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale la situazione economica la salute le preferenze personali gli interessi l'affidabilità il comportamento l'ubicazione o gli spostamenti detta persona fisica cioè tutte queste attività che sono poi proprio quelle che entrano in gioco nel cosiddetto mondo dei big data vengono considerate dall'attuale legge dall'attuale regolamento in materia di data protection come attività di profilazione e quindi fanno scattare una serie di obblighi e di cautele maggiori nei confronti a carico diciamo del titolare del trattamento ed è responsabile del trattamento ok torno alle slide che diciamo dopo mi ricorderò di aggiungere di tappare quel buco e niente vi lascio nelle slide una serie di diciamo approfondimenti di video e di questi sono tre video che ho realizzato per la regione Lombardia sull'open data che erano specificamente sull'open data erano venute abbastanza bene quindi li uso come riferimento e poi anche degli articoli anche di altri miei colleghi tipo questo che è abbastanza recente che parla di scraping di dati pubblici per non perdere l'eterno della concorrenza cioè commenta questo articolo di Carlo Piana commenta il caso del il caso che era avvenuto era un caso giudiziario quindi una sentenza che era uscita l'estate scorsa relativamente al erano i dati relativi al traffico dei treni quindi aveva visto da una parte una società una start up che ha realizzato un'applicazione che monitorava che permetteva agli utenti di monitorare il traffico dei treni i ritardi le inefficienze e via dicendo e dall'altro lato indovinate chi c'era a fare causa c'era Trenitalia che sosteneva che era stato violato era stato violato la sua proprietà intellettuale sulla banca dati c'era stato fatto questa applicazione faceva uno scraping automatizzato dai server del sito di Trenitalia per poi fornire agli utenti una serie incrociava questi dati forniva una serie di informazioni ad esempio sulla previsione di ritardi o meno o di problemi di coincidenze sui treni e se leggete l'articolo di Carlo spiega un po' la questione commenta la sentenza che è una sentenza abbastanza interessante importante nient'altro queste slide sono a loro volta come vedete sotto licenza creative commons quindi le potete vuol dire che possono essere utilizzate liberamente nel rispetto di quello che chiede la licenza di potenza